Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Terminata a Bergamo tra due tra Atalanta e Milan. Partita che era molto importante per due motivi. Uno, la classifica e due, per capire se sarebbe arrivata o no la risposta da parte della Dea dopo i tre gol subiti nella scorsa giornata e la cocente sconfitta. E devo dire che lato classifica io da Gobbo gongolo perché il Milan perdendo va a sette punti dalla mia Juve. Quindi questo è importante perché Pier vi ha messo il Napoli a dodici punti, oggi il Milan a sette, è sicuramente un qualcosa di importante. Però d'altro canto ero molto curioso appunto di vedere la risposta della Dea. Risposta che è arrivata, vittoria meritata, però io ragazzi voglio sottolineare subito una cosa perché sapete a me piace fare tra virgolette polemica quando c'è da fare polemica. Però scorsa giornata avevo ritenuto fuori luogo le parole di Gasperini che aveva di fatto attaccato alcuni suoi giocatori senza entrare nello specifico. Aveva di fatto parlato di alcuni giocatori che sarebbero dovuti passare sotto la sua lente di ingrandimento per capire quali fra loro sarebbero stati adeguati a scendere in campo con questa maglia addosso e quali no. Allora io così, siccome non ho niente da fare, ho controllato le due formazioni per vedere quale differenze c'erano tra la formazione vista contro Torino e la formazione messa in capo quest'oggi contro il Milan. Perché un allenatore che mi dice così, io mi aspetto che rivoluzioni mezza squadra, o se non mezza squadra, quasi. Sapete quanti campi ci sono stati? Due. Due campi. Ovvero, come li sono anche scritti perché la mia memoria sapete quella che è, ovvero Zappacosta al posto di Atebur, che Zappacosta è comunque da sempre il titolare, e Pasalic al posto di Miranciuk. E voi direte, quindi i problemi dell'altra volta saranno stati Atebur e Miranciuk? Direi di no, visto che Miranciuk è tra l'altro anche entrato in campo. Quindi, cioè, quando si parla, a mio avviso, bisogna pesare attentamente le parole. Io, ripeto, l'avevo già criticato al termine della scorsa giornata, al gaspo, perché mi erano sembrate parole troppo forti, troppo pesanti. E questa è la dimostrazione, ragazzi. E questa è la dimostrazione. Oggi era la stessa squadra di fatto dell'altra volta e ha rifilato tre pera al Milan. Cosa vuol dire? Che tu, contro il Torino, non sei stato semplicemente all'altezza, non sei stata la dea che siamo abituati a conoscere. Questa è la realtà. Hai sprecato quelle poche occasioni che hai avuto, hai commesso degli errori importanti. E io, lo continuo a dire, per me mettere Scalvini a uomo su Zapata è una cosa che non ha senso. E prendo ad esempio Scalvini, perché secondo me Scalvini oggi è stato uno dei migliori, anche sfiorato il gol. Cioè, quindi, quando un allenatore va a parlare alla stampa, deve pesare le parole, a mio avviso. Perché quest'oggi l'Atalanta ha fatto vedere cose importanti. Punto. Poi, sono d'accordo che Lukman, come ha detto Gasperini, è post partita, non possa giocare così tutte le partite, non possa essere così incisivo tutte le partite. Eh, certo. Ok, va bene. Me ne sto. Però, comunque sia, oggi si è vista una cattiveria diversa, un atletismo diverso. Eh, quindi cosa vuol dire? Che contro il Torino la partita evidentemente non era stata preparata bene, o comunque sia in campo non si era visto quello che si era preparato. E comunque sia può succedere. Non è che non possa capitare. Può succedere. Non deve succedere in quel modo lì, a mio avviso. Non ci deve essere un crollo simile. Perché comunque i valori erano differenti. Perché nonostante le assenze, per me l'Atalanta è molto superiore al Torino. Però, ragazzi, bisogna essere onesti. Oggi l'Atalanta ha fatto vedere cose importanti. Ha meritato di vincere, ha meritato i tre punti, come scorsa giornata. Ha meritato di perdere. Punto. Quindi senza stare a cercare alibi, cose, o dire cose pesantucce. Detto ciò, detto ciò, per me l'Atalanta ha un giocatore su tutti che sposta tanto gli equilibri. Che è Copminers, ragazzi? Per me Copminers è un giocatore che in mezzo al campo fa tanto. E, a mio modestissimo parere, avere un Pasalic è differente dall'avere un Mirancuc. Perché Mirancuc è un giocatore anche che ha qualche buon colpo, che può essere anche un giocatore interessante, ma Pasalic, a mio avviso, dal punto di vista offensivo, ti dà molto di più. Ti dà molti più inserimenti con il tempo giusto. Secondo me ha anche di più il gol nelle sue corde. È un giocatore importante. Quindi avere un Copminers che può di fatto muoversi con accanto Anderson che si inserisce, o lo stesso Pasalic, muove veramente tanto lì davanti. Cambia tanto lì davanti. E poi, comunque sia, è un giocatore che dovunque lo metti in mezzo al campo sta. Sa farti la fase difensiva, sa farti la fase offensiva, sa smistare bene i palloni, sa calciare bene. È un giocatore veramente importante. E quest'oggi, a mio avviso, è stato molto importante nel gioco della Dea. Molto, molto importante. Poi è vero che sicuramente gli applausi li strappa di più Lukman, perché ha fatto doppietta. e li strappa a muri e con il colpo di tacco alla fine. Però io penso che veramente la Dea abbia in mano un giocatore molto, molto importante. Che dire? Se poi analizziamo i gol, ragazzi, se da una parte o dall'altra troviamo errori. Cioè, per prendere il gol del 2-1, quello di Lukman, il cross di De Ketelan, ragazzi, Tomori fa un liscio. Trasciando Calabria, che si perde De Ketelan, in maniera... Calabria mi pare fosse... No, Ciukwese, Ciukwese. Direi Ciukwese, che si perde De Ketelan, in maniera veramente superficiale. Ma Tomori fa un liscio sul pallone che uno come lui non può permettersi. Come il gol di Jovic, quella palla non può passare dentro l'aria in quel modo lì. Non esiste. Quindi ci sono stati sicuramente tanti errori da entrambe le parti. Però è stata una partita comunque bella, con la giusta intensità. E... Se l'è portata via la squadra che ha avuto, a mio avviso, più fame. Perché... è vero che poi, dopo il gol del vantaggio, il Milan ha avuto un'occasione. Però, per me, ha avuto più fame l'Atalanta, quest'oggi. E questo fa tantissimo. E il Milan, a mio avviso, non si può permettere di avere meno fame di altre squadre. Perché lo paga. Perché, per me, il gol di Jovic è stata un'azione casuale. Il Milan, onestamente, non mi ha dato nel secondo tempo la sensazione di poter fare veramente male alla Dea. Assolutamente. Assolutamente. Era la Dea che ogni volta che andava di là mi dava la sensazione di poter sempre fare gol a creare pericoli. E Magnan è stato, è stato di fatto uno dei migliori in campo, se non il migliori in campo del Milan. Tra l'altro, apro e chiudo parentesi, non capisco perché fatta gazzetta da sette che gli stava dando appena ha preso gol. Il gol di Murel le ha dovuto abbassare di mezzo punto la sua valutazione. Mi sembra follia. Cioè, non ha colpe. cosa deve fare. Cosa deve fare. Però, veramente, io penso che oggi il Milan sia stato inferiore. Inferiore all'Atalanta. Inferiore all'Atalanta. E quindi deve assolutamente darci una botta alla squadra dei Pioli perché le altre davanti vanno, eh? E deve anche guardarsi dietro perché io l'ho detto ieri ma il Napoli secondo me giocando come sta giocando comunque i punti li porterà via. Deve stare attenta alla Roma pure. Cioè, occhio ragazzi, occhio, 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 occhio. Detto ciò, io vi mando un forte abbraccio. Vito a scrivere ai canali fornete il verbo. Fatemi sapere la vostra su la comparazione delle due rose. Se siete d'accordo con quello che penso io, ovvero che Giasperini l'altra volta si sia lasciato andare un commento scorretto e che alle parole devi far seguire i fatti perché sennò di che stiamo a parlare e invece non ha fatto seguire i fatti. Ha lasciato praticamente tutta la squadra della scorsa giornata in campo e ha dimostrato, ripeto ancora una volta, che la squadra della scorsa giornata ha giocato sotto tono e non è stata all'altezza. Cosa che oggi invece è sicuramente stata, è stata sicuramente all'altezza di questo Mila, anzi, è stato migliore. Detto ciò, vi mando un forte abbraccio, iscrivetevi al canale, difone del verbo, andiamo a vedere l'idea. Ciao!